Brindano Partito Democratico e Udc. Si apre una fase di riflessione nel popolo della libertà. Il giorno dopo le elezioni è il momento delle analisi. L'alleanza tra il PD e i centristi ha dato i suoi frutti. I due comuni più importanti sono stati portati a casa. Ad Atripalda si ha imposto Paolo Spagnolo, che ha distanziato di circa 10 punti l'uscente Aldo Laurenzano. A Solofra vittoria netta del democratico Michele Vignola, più 500 consensi rispetto all'avversario del centrodestra Nicola Moretti. Due colpi importanti per l'ASPD-Udc, proprio in quei comuni dove il voto assume un significato politico. Da oggi si apre una nuova fase di riavvicinamento tra De Mita e i suoi ex compagni di partito. Una fase che potrà contare anche sul successo di Prata Principato Ultra, dove Teneriello è andato oltre il 70%. Per il resto, negli altri 10 comuni, si registrano conferme e qualche sorpresa, come a Flumeri, dove a spuntarla è stato Angelo Lanza. Vittoria netta di Carmine Coviello ad Altavilla, che batte l'unico sfidante Mario Vanni. Ancora più straordinario il successo di Guido Belmonte a Pietradefusi. Il presidente dell'ASI, in forza all'Udc, trionfa con l'84% dei voti. A Baiano la fascia tricolore va al giovane Enrico Montanaro, ex presidente della comunità montana Partenio Vallo Lauro. Nunziante Picariello, invece, è il nuovo primo cittadino di Capriglia. La sua lista per il bene comune ha superato il 56%. A chi anche si impone Carlo Grillo. Qui due delle quattro liste presenti hanno preso un solo voto. Oltre il 50% va anche Beniamino Palmiero, da oggi primo cittadino di Montemarano. A Pratolaserra, Auffiero resiste all'assalto di Antonio Guarciniello e conserva la poltrona. Conferma anche a Santo Stefano del Sole, dove Carmine Ragano ottiene una vittoria schiacciante. Gli sfidanti Langastro e Romani non vanno oltre il 18%. Infine, a Sirignano, Raffaele Colucci, dopo la sfiducia, si gode la rivincita. Sconfitta Iolanda Capriglione.